genozio 13 novembre 2012 la fila e le due sono belle a sé stamattina c'era bacia chiesa madre che sento una santa matemessa lo soffermato a parlare con un bar mappolato per la sciaglia andata che mi ha domandato a come stanno filami e a come stanno neppunti noi come era a me c'è proprio una cosa a me le fila e le due sono belle a sé e disse come la Lucia che vaneva da lontano via alla fila non neppunti cinque fa te io sempre perduto vai vicino a te e vai vicino alle due cara come la Lucia le fila e le due sono belle a sé io prima la fila femmina e noi siamo stati sempre attenti che poteva fare la fila intelligente io sento un guagnamento cinque teni una che fa la coccia e noi avevi due cinque teni due e non ne teni una e una non avevi tre e ci sape che faccio l'apparecchio cinque teni tre e non ne teni un maschio o non teni una femmina non avevi quattro anziché prima una madonna ci faccio avere ciò che la manca cinque teni quattro di fila e quattro di neppure come a me è affortunato a sé c'è invece oppure due e due come la tenia sta veramente da dire un comparo Ambrugio da su sale oggi si trattava la panza parlando con le crianças e tutto insieme un comparo e lo comparo a me come avete c'è avuto la fortuna di avere prima una figlia femmina poi una figlia marco ancora un'altra femmina e poi un'altra marco e c'è avuto parlato prima ma che ciò comparo e lo comparo a me si hanno parlato prima gli hanno detto più al posto di sembra agnesamata ha chiesto a San Martino non era capace di aprire la mattina parlando parlando ha detto che ha detto come avevi detto sei proprio una credente del Dio che la serve sempre a San Martino un comparo ammaculato disse viate accennate io non ne ho avuto mi hanno detto di fare la domanda di adozione che aveva un figlio o di fare l'adozione a distanza ma prima c'è gli ha pensato poi come ammaculato a me non ci pensano a sé che alla fila non so di ci la faccio ma so di ci la cresce e ancora chiuderebbe un'altra domanda signora un comparo e lui che muore a me si è scondendo a sé che questo permettebbe di aprire Gesù Cristo a Madonna di fare la fila a sé e tutto ciò che oggi hanno bisogno a posto marito mingata stamattina se sono nati di prendere un caffè domenica o con gli nostri piccinini e quando s'era vogliata l'è venuta in cava di scrivere a cassetto la vita gli è fatta di alto e di basso di tempo bello e di tempo brutto perché si la vive di che dì come me la manda a dire ma la verità l'ha voluto scrivere un signore perché è arrivata una chiamata da domenica figlio mio faccio niente con frate francesco ha fatto l'incidente con la moto subito la macchina si è togliata veloce a tardi si è arrivata una brutta giornata si è passata a Gesù Cristo e la Madonna si è priata che è brutta l'estate e buoni è venuta e si è priata sempre la Madonna è di cannappa sta buona tutta la dì Giovanna Ranaldi grazie